Affrontiamo il tema dei commenti negativi, non capita che sotto i video ci siano commenti negativi, delle volte verso di te e il tuo lavoro, e lì ho sempre detto che bisogna rispondere il più possibile ripensando a chi leggerà domani, non a quella persona lì, tenendo un tono moderato, tranquillo, rispettando le opinioni altrui perché il bello è soggettivo, ma dicendo la propria, è un'occasione per raccontare il proprio punto di vista. Ma poi ci sono i video dove ci sono i commenti negativi verso la cliente, e lì può succedere che la cliente vi chiede di togliere il video, oppure che voi vestiti l'imbarazzo verso la cliente perché queste offese che arrivano verso la cliente, magari per come è vestita, per cose che ha detto, eccetera, possono darvi fastidio o farvi venire la paura che la cliente non venga più perché si vede nel video. Quei commenti che bisogna fare si possono anche cancellare, i video si possono anche togliere quando ci sono cose di questo tipo, non succede niente, ricordatevi che questo è semplicemente il prezzo del successo. Quando questo non succede, vuol dire che non vi caga nessuno. Quindi, ottimo.